I contesti sociali sono diversi, ma le sfide sulla famiglia restano comunque le stesse. È il punto su cui concordano i cardinali e non solo presenti al sinodo sulla famiglia. Ognuno dei partecipanti ha ascoltato gli interventi degli altri padri di sinodali, degli uditori e degli esperti, cogliendo un risvolto ad adattare le realtà da cui si proviene, prendendo spunto per linee pastorali future e per le iniziative da presentare, in modo da valorizzare il bene che c'è nella famiglia. Una sfida ulteriore per un continente come l'Oceania, dove accanto allo sviluppo delle grandi metropoli c'è anche l'arretratezza di molte tribù locali. Monsignora John Deew. Per quanto riguarda le problematiche della famiglia ritengo che siano le stesse quasi ovunque, nel senso che ci sono molte persone che convivono prima del matrimonio e si verificano molte separazioni in tutte quelle società. Invece sono per certi versi differenti nelle isole del Pacifico, a Papua Nuova Guinea e nelle isole Salomone, da dove molte famiglie emigrano verso l'Australia o la Nuova Zelanda, soprattutto dalle isole del Pacifico, alla ricerca di un lavoro. Ciò comporta che le famiglie sono spesso costrette a lasciare a casa i bambini, che vengono cresciuti da nonni e zii. Si tratta di un problema serio dovuto alla necessità di arrivare a sbarcare il lunario economicamente. La famiglia e la rete sostiene il cardinale Christoph Schomburg, che al sinodo ha raccontato la sua personale esperienza di figlio di separati. Un dramma della solitudine che si vive soprattutto in Europa, simile a quella che sente sulla propria pelle chi sceglie di restare fedele al sacramento del matrimonio, nonostante l'abbandono. Una testimonianza di fedeltà ha fermato l'arcivescovo di Vienna attraverso la sofferenza. Non si parla abbastanza dei figli che soffrono, perché qui c'è la madre, qui il papà, e girano tra di loro, un weekend qui, la settimana qua. Queste sono le situazioni dure, delle quali dovrebbero parlare anche il sinodo un po' di più. Mi manca nel discorso del sinodo questo sguardo al quale ci invita Papa Francesco, lo sguardo di compassione con coloro che soffrono. E sono, nelle situazioni di crisi, sono prima di tutto i figli. Nella società asiatica, e sottolinea il cardinale Oswald Gracias, il divorzio è un fenomeno che comincia ad essere accettato, ma la famiglia resta un punto saldo, nonostante le crisi, le separazioni e le difficoltà. Ritengo che dobbiamo far vedere alle persone che la famiglia è il luogo in cui ci si costruisce la propria felicità, il successo, le gioie, la crescita spirituale, la santità, la propria realizzazione nella vita. Se riusciamo veramente a rafforzarla e a convincere le persone, dimostrando che è un mezzo per raggiungere tutto questo, allora credo che avremo offerto un vero servizio non soltanto alle famiglie cristiane, che sono poche, costituiscono infatti soltanto il 3 o 4% in tutta l'Asia, ma all'intera società asiatica, e questo è per noi importante. Se la situazione è quella di un campo di battaglia, come ripete il Papa, dobbiamo sporcarci le mani. È il pensiero del cardinale Riccardo Ezzati Andrello, arcivescovo di Santiago del Cile, che chiede ai pastori di essere comprensivi, di mostrare vicinanza ed ascoltare chi soffre. E di fronte alla realtà delle famiglie, per esempio in Cile concretamente, quando io guardo che il 70% dei bambini nascono fuori dal matrimonio, quando penso che un 40% delle famiglie non vive la realtà ideale della famiglia, quando scopro elementi di povertà che influisce fortemente sulla consistenza della famiglia, quando sento che i genitori sentono una preoccupazione gravissima, forte per l'educazione dei propri figli, Non posso solamente rilevare questo dato come un dato statistico. C'è bisogno che il cuore della Chiesa, che il cuore dei pastori, che il cuore di tutta la Chiesa, anche dei laici quindi, sentano che questo problema non è un problema solamente di statistica, ma è un problema che tocca ciascuno di noi. Lavorare perché la Chiesa sia famiglia è l'indicazione più forte che Monsignor Gabriel Billingi, arcivescovo di Lubango, riporterà in Angola, uno dei paesi dove è più sentito il problema della poligamia. Quando un poligamo vuole convertirsi alla Chiesa, vuole diventare cristiano, attualmente la Chiesa chiede al poligamo convertito che scelga tra le moglie una donna per lui. Ma la situazione per noi è il fatto che quelle altre hanno sempre lui come il marito, lo sposo. È delicato, comunque non si può rifiutare la fede, neanche... Ma spesso succede che quella donna che lui sceglie per sposarsi con lei non vuole sposarsi in Chiesa, non vuole convertirsi. Eppure è quello che lui ha scelto come la sua moglie, come fare. Cioè, è in studio.